ariete una buona distribuzione planetaria ravviva le energie positive e rende morbida la giornata sentimentalmente un lavoro costante costruirà solidi pilastri per il futuro toro mercurio urano e sole in transito nel segno pongono l'accento sulla vostra consapevolezza personale e su ciò che ritenete di dover cambiare favoriti contatti brevi viaggi capacità comunicativa brillante gemelli momento piacevole che vi orienta a vivere con maggiore armonia intima mentre si affaccia a marte in angolazione positiva che crea nuovi impulsi ad agire e rivitalizza le vostre giornate cancro un cielo astrale meno gravato da asperità agevola le vostre iniziative e vi rende capaci di gestire situazioni impegnative avrete modo di riscoprire quante risorse nascoste possedete e vi sorprenderete leone marte in aspetto di opposizione e alcune configurazioni dissonanti consigliano prudenza nell'affrontare problematiche e questioni di lavoro moderata e l'agitazione nervosa che spesso a fiora prepotente vergine un assetto astrale intenso e in massima parte favorevole allieta a questo periodo ma sollecita anche molte energie siete ispirati a muovervi per appagare lo spirito che reclama nuove conquiste bilancia dopo una fase un po opprimente tornate a guardare con occhi più vivaci le questioni del quotidiano ormai fuori dall'apatia che a volte ha segnato il periodo una attività fisica accrescerà il buon umore scorpione è una fase di irrequietudine profonda di instabilità e possibili trasformazioni rinnovamenti tutto pare girare vorticosamente intorno a voi e se da un lato e euforizza la voglia di sfide dall'altro vi stanca sagittario la sfera sentimentale è quella che adesso assorbe le conflittualità esigete i vostri spazi d'azione la vostra irruenza potrebbe disturbare un rapporto praticate sport a contatto con la natura per rilassarvi capricorno giornata positiva che vede la consueta carica di novità e responsabilità c'è però in voi una nuova visione della realtà che va a poco a poco definendosi vecchi schemi che traballano e orizzonti diversi acquario marte fa l'ingresso del vostro segno e suscita più impetuosità vi rende meno contemplativi e più attivi cercate di non farvi trascinare nell'irritabilità si apre un periodo denso di nuove domande a cui rispondere pesci si amplifica la voglia di realizzare un sogno che tenete nel cassetto da molto tempo e se avete la capacità di oltrepassare timidezza e consuetudini avrete buone possibilità di raggiungere la vostra meta buone stelle